buonasera 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 da me green star a you buonasera il vlog è bellissimo grazie l'ho fatto oggi sono contento di ci ho lavorato tanto grazie falco per i 49 mesi allora io sono tanto così da sboccare ve lo dico per i motivi sbagliati però beh no i motivi sono giusti poi abbiamo assaggiato le salse della cosa della prozis la prozis era buono mi ricordo più io stavo vi giuro su dio ho dato una leccatina a questa qua alla salsa honey mortar cioè me la ma è stato un errore fatale io stavo per vomitare ragazzi mi è rimasto il trauma in bocca e sono lì per vomitare il ketchup uguale io non l'ale ci ha appucciato la cotoletta nel ketchup io non so come ho fatto perché una donna invincibile oddio sono entrata per sbaglio dove sei entrata su sale e vabbè mo arrivo sono altissima perché dice che sei seduta di base il gioco ah io non sono seduta e lo so devi dirlo al gioco mica a me ok oddio ma ho le gambe rotte cioè sembro sembra che no davvero ho le ginocchia che si mandano a cacare com'è possibile aspetta che allora breve ti raggiungo anche io comunque veramente ragazzi stavo per vomitare fortissimo l'ale non so come si è riuscito a passare oltre questa cosa comunque stasera giocheremo al sea of thieves war non vomiterete perché c'è la modalità visualizzazione decente quindi andate tranqui starete super tranqui non non ci sarà del vomito l'unica persona che vomiterà sarà ele perché al motion sickness lavora col voir c'è al motion sickness no solo con l'acqua l'acqua mi fa venire voglia di sboccare dove cacchio è la chat che non riesco a levarla eccola adesso passo all'altro mic bella raga mi senti tu tu mi senti loro mi sentono mi sentite bene mi audite grazie piero x veramente datemi un secondo che entro nell'anima virtuale l'anima virtuale l'anima dell'immortacci nostra mi infilo nel buco del culo mi insinuo all'interno del mio computer digitale sperando che non mi cresci nulla sarebbe anche da pulirla questa realtà virtuale visto che vedo tutto appannato dov'è quel cazzo così metto la chat e siamo tutti non trovo il pisello aspettate copro green così con la voce in che senso è fortissima la mia voce si incompatibilità tra sessione ma che dice sta roba cos'è tra sessino non tra sessione che sta novità adesso un altro visore collegato al pc host ma che dice cos'è sta follia messa che succede che soste laggata e ok errore risolto che succede dubbi esistenziali del momento io assovunto se mi avvicino ok ok e lei mi senti si ti sento sento ma io non ti sento ma perché non la sento ma va tutto una merda ma cosa succede oggi ma ho fatto un test prima era perfetto non l'avevi fatto con me che rompo tutto io adesso mi cago addosso e poi c'è delle mani che sembra delle forchette belle forchette non hai non al full body oggi raga perché c'è troppe cose da organizzare avviso lei ve lo alzato e si balla e si balla antonello confini sta giocando a stail ok vediamo quante cose riusciamo a rompere di oggi siete contenti perché funziona un cazzo lo vedo un attimo perché io sto parlando e in effetti mi sente allora il gioco lo sentite almeno sembrerebbe di sì e almeno una roba va e beh il discord non gli va appena è entrato e voi come va ragazzi tutto a posto se poi mi sono tanto girata ditemelo perché il problema è che la cam che sto usando adesso non la posso vedere quindi non so esattamente come quando sono girata se giusto o sbagliato o meno quindi sappiate che c'è questa cosa qua comunque mentre vi dico visto che gatto non mi sente ti sento lontana ma poco poco ti sento ah mi senti adesso no è che ti sento attraverso le cuffie quindi ti sento ma per modo di dire ah per una volta non sei tu ad avere problemi dice Domen no è veramente la prima volta questa non parliamo troppo presto non parliamo troppo presto non mi fido ma non la sento più però adesso mi sento adesso voi vedete quello che sto vedendo ah ah ho le gambe rotte fra mi spiace tantissimo di aver le gambe rotte per te cioè ma anche tu le avrai rotte se ti metti in piedi io sono in piedi io gioco sempre in piedi ah non ho avviato l'applicazione per vedere com'è che si chiamava ah per Xoverlay per la chat esattamente giustamente infatti stavo cercando di leggere la chat ma non avevo modo di farlo ecco qua ecco a posto bello e in tutto ciò forse dovrei andare nelle come cazzo si aprivano le impostazioni già me l'ho dimenticato con Y ah ecco con la sì allora 8 adjustment no proprio alto oh no troppo alto ok no che un cazzo non mi sta avviando ecco qua Xoverlay arrivo ragazzi e datemi un attimo più o meno dai così non sembro pazza tra l'altro metto creator ok non dovresti sboccare no seated mod no treasure chest map left weapon right weapon tutto al belt creator camera on sì esattamente quella lì è ottima ah ok quindi dovrebbero vedere tutto un pochettino più smooth esatto come i criminal di Michael Jackson non so se è davvero così poi confermatemi voi però devi entrare in game però eh ah ok devi entrare in game si fanno così le cose adesso ah ma adesso entro e poi ti invito tu inviti me cosa succede eh allora intanto cerco di capire perché di una puttana troia non funzionano le cose qui poi ti dico comunque puoi creare una stanza oppure entrare in una stanza qualunque poi mi dai il codice della stanza è veramente a prova di rincoglionito quello che noi siamo eh allora enter port host private port host private port com'è che si faceva crea overlay modalità visualizzazione allora crea overlay no vai su si crea overlay e poi ti apre una pagina caso del desktop vai sul tasto centrale windows ecco che fasti grazie mille grazie mille allora nasconde automaticamente fissa allora no e qui tira qualche laggatina giusto per non come l'attacco ah no non mondo l'attacco a controller sinistro ok però magari non così ma allora qui qui mi devo incazzare eh dove è finita perso la chat chose your weapons ma io se io ti devo invitare cosa cazzo devo fare no mi dai il codice da qualche parte c'è il codice eh da qualche parte ah eccolo ah santo cielo te lo dico o ci sei eh no sto sto terra l'idea sto facendo danni ma allora io ho messo la chat nella mano ma mi è sparita oh ma che cazzo c'ho la fotocamera perché sono un pezzo di merda c'è chrome ecco qua ma che cazzo vedete scusate oddio ecco come funziona la modalità cam ah cioè questa è la modalità cam perché la sto tenendo in mano io sì esattamente ma poi sparisce mi sparisce completamente la finestra quando giro la mano perché aiuto sto cliccando in chat vedo scusate ragazzi che sono uno uno stronzo scusatemi adesso a breve vi leggerò io sto avendo dubbi esistenziali su questa camera devo dirti no non è male quando tieni in mano se premi il grilletto ti ti si gira se premo il grilletto se premi il grilletto si non so se a questo punto gli conviene vedere il mio pov ho detto sinceramente cioè il mio pov è questo raga ditemi voi se preferite scusate un secondo ho un piccolo problema praticamente mi ha messo attaccata la mano sinistra la chat però devo rompermi la mano come posso cambiare la visualizzazione della mano che cambia la metti la chat sistema in modo diverso la prende la ferry non funziona me la rimpicciolisce me la ingrandisce basta dopo che la rimpicciolisce grandisci si ho fatto ok sono tornato adesso una persona quasi intelligente vi leggo si ok eccomi qua ok allora il room code è E ok S sì R sì V sì M sì F F di fucker bravissima immaginavo proprio è quello che ho pensato anch'io ah grazie fra grazie mille per l'abbonamento ok grazie adesso non dovreste mai più sboccare sono io ciao io mi grato ma non so se volete vedere il mio pov o o no raga no il pov è meglio non farglielo vedere va ok allora mi tiro su le tette e mi metto l'altra ma sei un maschio ma perché è così bassa la canna ah così ciao eh sì che sono ma c'è il collo completamente scollegato ti sento in game magari mutati ti muto io ti muto io no no guarda ti muto io tu mi senti in game sono mutata no no prova 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 ho mutato tutte e due ok no perché se dovrei farmi sentire degli altri giocatori quello è il problema ma la cam la vedi sempre in continuazione davanti al muso vabbè sai che roba che te frega facci vedere davanti a te e che cosa state vedendo voi è la cam ma no non sono io questo ah no sì ah sì scusatemi adesso vedete davanti a me scusatemi è che siamo uguali e pensavo di inquadrare siamo uguali aspetta un attimo allora cos'è qua non abbiamo soldi ma le braccia corte ma sta maschera da da coso cioè come devi pagare non vedi che devi pagare devi pagare non c'ho una lina non c'ho un cazzo non c'ho dai andiamo all'avventura allora ma non ci sono altri giocatori qui ma è una stanza privata ho fatto ma non era meglio con i russi e io che ne so dimmi tu ma sì ma dai andiamo con i bambini allora e come si fa allora aspetta andiamo con i bambini e prima guarda che giocatissimo non so come si esce aspetta exit to menu come hai fatto usci facendo exit to menu l'ho anche detto cioè non ho più di dirti questo non so cosa dirti ma in che senso exit ah lì ah minchia due neuroni allora facciamo play i arg e facciamo enter port voce in gioco aspetta che voglio mettere il dispositivo agli ai è roadcaster aspetta prova 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 avvia il test prova prova non va aspetta aaaaa ma mi sentono pochissimo ti do il codice della pubblica eh no aspetta aspetta un secondo sì dammi un attimo che sto selezionando il dispositivo ma non me lo fa selezionare però prova prova non va niente qua come cazzo si prende sta cam di merda allora questo è cioè adesso sto facendo tipo modalità selfie ma mi vedete non so come cambio il dispositivo di di ingresso perché da qui da SteamVR mi mente in che senso dispositivo di ingresso eh per parlare in game aspetta che mi arrangio chi vuole parlare in game io non ti sento manco più tra l'altro quasi niente come no si bassa parlami ma come player se ne sono andati via tutti i pezzi di culo ma gli fai schifo magari eh potrebbe essere quello sai magari sono disgustati ma ste porte che cazzo servono io non capisco però sai che forse aspetta è che non ti sento perché sto cercando di mettere l'audio nello SteamVR vabbè parli tu al massimo parli tu con le persone ecco qua dimmi il codice ma guarda te che sbella allora sv l lmj mj ok join vedete che adesso ho aperto mille chat qua ok sei nudo ecco qua la sentiamo a bassa e con l'eco probabile che prenda d'altro eh prenderà dal mio microfono l'ha sentita ancora bassa lei parla buongiorno buonasera benvenuti a tutti i sorci nudi io non la vedo male sento rimbombare ma perché non ti ho mutato aspetta ok prova 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 ciao ciao perché vi mettono la visione buona ma siamo tutti nudi guarda che con la camera non mi piace mica un cazzo perché è molto ti vedo che sei infatti un po' molto arrabbiatina no? con queste braccia questo è così sto così si sente appena appena posso bevo Shiro in questo momento posso bermi solo dalle ossa uh guarda questo qui dicono che ti si sente appena ma io vedo che che sta andando fortissimo in realtà il tuo mic fammi toccare un attimo eh boh non so come mai ti sentono dal gioco e non dal desktop no 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 ti sentono da lì sono sicuro boh che figo è uscita prova a parlare e non la sento io adesso perché ogni volta ci sono cazzi qua così ciao oh io ti alzo ancora faccio così grazie per il follo Marco è un pirata non vede una donna d'anni magari può darsi yeah we can hear you sorry can you hear me ok thank you so much quindi mi sento come se ci fosse l'eco sta chiedendo i soldi di sto qua c'è già chi è l'emosina mamma mia mamma mia guarda che roba che 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 dorsali sentite ancora l'eco mi è compenetrato male c'è il collo che è un fusto ok ok che cazzo sta imparando questi adesso che magari il mio microfono è il problema si è vero si è vero che sentiamo piano rispetto a gatto gatto copre tutti come audio allora aspettate che magari c'ho il super gay che ne so io il super gay adesso no l'hoste occupato che vuol dire che l'hoste occupato ma che dici stavo giocando eccomi qua mi piace questa trappola che stai facendo a gatto tu gli fagli tutto per farti il sermica al primo grido tutti i morti adesso mi sentite si 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 ciao io sono inglese ma parlo italiano oh wow you can talk very good half italian half italian oh stavo guardando l'audio ma non si può regolare ti devo abbassare io a te sono troppo alto confermatemi ti basso su discord al massimo nel senso fammelo pescare e ti abbasso io ti ho alzata su discord invece allora aspetta che mi sparo una laggatina giusto per ah ti posso guardare dentro la testa oh ok ok è vuoto è meglio così raga grazie Elgi ok ho lo stesso volume di green perfetto perfetto che fa ottimo perfetto cosa che fa chi fa no 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 niente non importa boh andiamo all'avventura eh ma tu sai che dobbiamo fare è andare all'avventura e fin lì c'ero eh te l'ho detto andiamo ok andiamo star coin no non voglio spendere soldi andiamo di qua ships ecco qua free ship spawn ship free ship ecco qua vai premi spawn ship no ma in bottiglia ma in bottiglia ce la danno cosa fa sto qua come la per beh ok niente bastava dirglielo e quindi è il primo giorno e già ci vogliono mi sembra abbastanza facile comunque cosa devi fare guarda qui non si vede la devo lanciare in acqua no si però non si vede dalla telecamerina vedi guarda no è per quello che l'ho levata per quello che l'ho levata perché in che senso non è meglio prima eh ho levato la telecamerina vedono il mio povero e buona lì perché sennò veramente finisce che si vedono la metà della roba non possono vedere neanche io che faccio le cose strane con le mani eh vabbè ma sboccano allora noi dobbiamo me lo metto qua ah si quindi la butto in acqua ci mettiamo sopra e poi andiamo attraverso il portale ok mi sono messo la telecamera sul petto vi piace? siete i miei seni andiamo ok andiamo che sto bambino mi ha già rotto i coglioni ma siamo qui per lui eh ma non ha capito che non ci abbiamo una lira cioè non so come si salta così? ce la faccio? uh allora ma che cazzo ma è veramente che poi ha le ginocchia rotte ma che cazzo vuole? eh devi regolare anche vabbè allora io la lancio lancia lancia ship is stuck anchor down turn anchor up ok bellissimo no come ragazzi entriamo non ho capito ci nuotiamoci dentro vado ma dai pensavo fosse un po' più basso perché si è un bloccato? come si sale? come saliresti nella vita reale eh ma mi scivolo afferri con no devi afferrare con e lo sto facendo lo sto facendo aspetta salta e afferra oh cazzo oh capisena ok ok oh ok boom a posto 500 non c'ho una lira non c'ho che coglioni ma che ti servono i soldi? perché sei così venale? dai non vedi che siamo qui in questo magico mondo bisogna alzare l'angola tipo alza l'angola una mano? fai tu ok io guido allora sono il capitano sì sì ok ok andiamo di lì a sto punto perché vai 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 cazza la randa andiamo lì dentro? ah aspetta forse devo abbassare la vela c'è una vela? sì bella raga ecco qui dal vlog del vostro pirata di fiducia si abbassa cosa sta facendo quella lì? la mozza la vela dove? quanto difficoltà come si abbassa sta vela di merda? ma devi cazzare la randa no? e allora allora aspetta ok dove va? dove va? no e ho lasciato la telecamera lì aspetta no 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 vabbè a posto a posto e il problema si è risolto chissà se sono esistiti anche i pirati etero ok eeeh infammi abbassa sta merda ecco devo più la telecamera dove? dove? vengo cosa? ho perso la telecamera e ce l'avrai nel pettino? no ragazzi cosa vedete? perché mi tiraste la gata Gesù Pera? Gesù vediamo quello che vedi tu ah vabbè per adesso mi spiace appena riesco capisco dove andiamo? andiamo lì andiamo lì allora sì una pistola bella la pistola bussola ma non funziona è un po' smutato c'è di nuovo smutato eh perché mi sa che abbiamo cambiato coso? server eh allora ti muto però mi lagga un fracco cioè proprio l'immagine mi arriva in ritardo non so cosa vedono gli altri da me però ci mi sta mettendo un po' ho mutato me stesso e non te tra l'altro infatti che sono stupido vabbè andiamo ok dove andiamo? hai tirato giù l'ancora? brava e andiamo lì ok il gioco sta renderizzando praticamente il mondo intero sì può darsi mi sta facendo laggare in una maniera atomica il problema è che qua non mi mette il mouse dove voglio io ecco qui come si forse devo nuotare è vero la barca è nostra? c'è uno squalo no no ah cazzo col fatto che laggo aiuto aiuto laggo anch'io cosa succede? ah si nuota meglio così eh lo squalo mi ha mozzicato aiuto non lo so perché sto laggando aia aia nuota stile fai prima ecco qua ecco qua ecco qua madonna che laggare ecco qua difficile giocare così ok state bene ragazzi? ma un cazzo proprio ma forse dovevamo tirare giù l'ancora l'abbiamo fatto no? sì sì ah sì? allora guarda qua c'è pure la mappa del tesoro non qua e non capisco però allora quella è la nostra nave credo ah no questi siamo noi qua cazzo non funziona questa mano aspettate allora provo a guardare un muro da vicino e per qualche secondo magari da un po' di tempo a render eh sì perché uff così stiamo a guardare i muri per un quarto d'ora e continua non funziona perché non va? stai pescando eh ci sto provando non mi gira il cazzo dove sei? sono qui dietro ecco qua sei buona ti gira te ma però prendi no dove l'hai presa la canna? è dalla cesta abbiamo una cesta noi allora c'è un problema con la mano sinistra che se clicco con la mano sinistra non fa niente perché mi entra nel ok come cazzo non è così che ma co non sto capendo madonna no no funziona di merda questa cosa aspetta credo di avere il problema che praticamente la finestra di continuo a cliccare nella finestra di chrome come impedisci tu che succeda? vai su impostazioni sì e fai su block input ahhh vedi ma va a dire che ne sai una più del diavolo c'è uno che sta arrivando a nuoto a farci il culo ma vedi che laga anche quel cazzo di squalo però continuo a venirmi fuori il più cos'è sto più qua? scusami scusami ma c'è sto scusa? ciao come si carica sta cosa? ma non a me ah ah vedi ma vabbiamo sembriamo completamente disabili con queste cose non riusciamo veramente a prenderne uno cosa sono questi pallini rossi poi li vedi pallini rossi pallini blu pallini rossi questi qua che abbiamo sulle mani eh allora ah sì e lì c'ho 40 di di cosa di come si chiama di vite di salute sì su 100 e poi il giallo credo sia l'oro e il blu credo siano no no proprio di puntini rossi di input ma credo che siano i puntini di coso di di com'è che si chiama di x overlay sta impazzendo un po' anche a me sai infatti vorrei togliere eh il coso di x overlay ahia mi ha fatto sono morto bravo coglione non avevamo niente ancora fanculo lui fanculo lui dove sei? eh sono morto e sono tornato e io sei in un'altra eh sì mi devi dare i servers ehm aqncm ok grazie acquiterme e questa è la maxistoria di come ce l'hanno buttata in culo niente adesso adesso è completamente impazzito x overlay adesso vedo la chat che scorre dove vuole lei ma perché sta cosa? è forse perché gli hai dato un input prima di toglierlo tu pensa quando ci sarà la roba così inviare a 60 fps c'è già solo che evito di farla porca miseria e questo è niente però in effetti sì appena entriamo in pubblica mi lagga un botto vabbè facciamo una privata allora dici che cambia eh ma il bello forse non è essere con gli altri eh lo è però se non ti va non ti va dice no no mi va bene scusa era q aqncn aqncm di merda aaa vedi dimmi merda no che fancy i capezzoli ok se Dio vuole adesso leggo la chat ah uuu uuu nice grazie Fede per i dodici mesi ragazzi mi confermate di essere vivi scrivendo in chat per cortesia mi serve proprio un favolo ok adesso funziona uè uè mmm che bello ma non funziona la canna da pesca è finta guardi siete vivi oh dai allora perfetto adesso di nuovo la camp of eccomi qua e sboccate di meno no niente la chat mi si continua a impallare è follia sta cosa qua non riesco a capire perché lo fa ci mette il mouse continuamente sopra scusate ragazzi un sacco di problemi stasera non che di solito però stasera di più bello nice chest para chest ok e sword una sega di merda ehi ehi che stile con un pietino libero eh overlay bello bello figo wow uff ah ecco perché non vi leggevo brutta rincoglionita perfetto vediamo se così va guarda 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 uff cos'è che sto sto sentendo leonora che cazzo sto flexando guarda che muscoli zio pera grazie disagio per i 37 mesi dov'è che sei è solo davanti allo sguardo guardami davanti allo sguardo sei sì vabbè sai che roba sembrava due uomini gay grazie del bacino ho apprezzato come mi cambio completamente compenetrato i neuroni pirate bandana eh ma però diventiamo uguali scusami allora io sto così è un pollice adesso sì sto glabro io preferisco io sto oh ops vuole solo flexare non volevo guarda che roba facciamo una spada meglio mi sento proprio la possanza sono degli lazarins con la barba lazarins soprattutto sì baby dai che dobbiamo guadagnare dei soldi qui eh sta andando già male aspetta non apia sta barca impallata ancora no deve essere ok cos'è che è impallato la chat dov'è ma questo qui è livello 92 ma è incredibile ma bravissimo cioè complimenti con tutto clippato le ascelle clippate dai tira sta roba ok continui a mutare me e invece dovrei mutare te gratis grazie per gli undici mesi hai visto che è diverso questo porto? prima non c'era tutto sto amara dama come no? no ecco qua bella che mai vado ferostraia hai visto? cosa serve questa? ecco vabbè non voglio prendere la spada perché io sono non voglio il videogioco voglio un asiago dai allora pronta? aspetta che tiro su ok e poi gira 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 un po' giro giro tonda andiamo a farci fare ho preso un pesce ho preso un pesce devo girare peschi tranquilla 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 sta prendendo tutto il traverso e il pesce ce l'ho ancora? non lo so ce l'hai? non lo so forse va nella cesta il pesce vai nella cesta e in fish non ce l'ho no non l'hai messo nella cesta e non l'ho fatto vabbè niente tuo astrio è capitano sniz sniffer ma non dir le cose chi è? quel posto ma va quello là è il buco del culo del mondo quello andiamo? no dobbiamo prendere i tesori che andiamo andiamo lì vai spostami sta bagnarola aspetta che ti ci avviciniamo di più ma ce la posso guido io guido io non ti preoccupare ok ti dico basta eh stiamo a schiantammo eh no ti dico basta non ti preoccupare vai 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 ma a te non lagga manco un po'? sta laggando abbastanza si ah ecco beh è un gioco del cazzo però guarda che bello 2 fps al secondo tomma occhio che si scivola non è così a canzone giovanotti? quale canzone giovanotti? dovremmo mettere quella di zucchero baila morena baila baila morena ma sei bravissima guarda come balli hai visto? con tutte le gambe disarcionate disarcionato è veramente un bel termine potrebbe essere la parola del giorno forse ci dovremmo grazie a Eberk sì vai vai tira giù tira giù ok ok vai andiamo andiamo all'avventura cosa fa questo qui? cos'è? questo chi? hai non spara non mi sparare e non spara come? non so aspetta devo tirare indietro? ok come funziona? no ho aperto mille robe no aspetta oh ma sti squali e non funziona mica però sta cagata scusa come che è? forse devi devi ammosciare il il cordino ah vediamo oh va a fuoco va a fuoco non sono stato io non sono stato io ma ti stanno sparando ti devi andare di lista non da fuoco ma stardi ma stardi sono li dobbiamo girala girala io sono qua dov'è? ho spostato la telecamera arrivo ragazzi aspetta che giro eh faccio manovra faccio manovra ah infame di merda vieni qua dove sono le palle ce le abbiamo le palle cinque c aia mi ha colpito merda ah no guardate questo dov'è? ma sono appena entrati zio per a questi ci hanno seguito non ci ho preso non ci ho preso ci ho preso? no mi hanno affogato vi è qua vi è qua e che vi è qua? dove sei? dove sei qua? qua arrivo ciao Adriano powerpoint ah vedo che c'è lo squalo eh lo vedo lo squalo aiuto ecco qui ecco qui stiamo lontani da questi Gesù per favore ho capito io però ragazzi tutto bene continuo continuano a fottersi la chat io non so come mai sta cazzata come cazzo li troviamo i tesori esattamente che sono minuscole quale allora intanto magari impegnandoci eh ma non vedo una sega sono minuscole si può zoomare tutto ok si può zoomare qua ah ho capito dov'è il problema perché praticamente io ho cliccato su Alex Black e sto cercando di rispondergli io non gli voglio rispondere ad Alex Black mi sta sui coglioni dovrei bloccare l'input stai ballando la Macarena praticamente io sono un grande campione di Macarena sai? è bellissimo perché poi sei serissimo con questo collo che sembri il tizio degli incredibili sono mister incredibili te l'ho detto infatti non mi è venuto da vomitare a differenza di quello che qualcuno pensava allora io non riesco a zoomare si può zoomare sta mappa ragazzi se vi metto così sboccate l'anima fatemi sapere ma perché adesso io non voglio regalare un abbonamento no Daniel comunque Xoverlay mi si è completamente rimbecillito non ha il minimo senso sta cosa non riesco a capire cosa succede se la metti al mondo allora facciamo così stavo pensando anch'io eventualmente la metto al mondo la chat word dove cazzo l'ha messa però ah eccola e ok mondo ok la metto qua dal mondo poi come si si sposta così ok perfetto uguale e poi la blocchi perfetto io le abbasso un po' l'opacità scusate ragazzi che ogni volta qua ci sono dei cazzi nel culo così la chat non ce l'ho non ce l'ho allora ok vamos a bailar oh oh grazie Marco per i 46 mesi hai già sonno? abbiamo appena iniziato che ora è? no è la nausea come la nausea? per il lag ma valla vieni che troviamo i tesori ah sei tu ma tu hai capito se si può zoomare zoomare che? la mappa? la mappa eh certo eh certo fai così non quello non è come? cioè io vedo le isole minuscole come cazzo fai a trovare un tesoro così? ma non serve per trovare i tesori serve trovare le isole dove è finita la chat? eccovi qua ah minchia mi sembra eccessivo però vabbè però non passiamo in acqua perché ci sono gli scuoli di merda facciamo il giro no comunque c'ho il problema praticamente che continua a finirmi il mouse dentro il corpo ma tu tu com'è che hai risolto? hai messo nel secondo schermo tipo la chat? dove sei? la chat io ho proprio fatto una una paginetta chrome dedicata sì è anch'io in muscola che però finisce sopra al gioco e io ci clicco eh devi metterlo nel secondo schermo allora ah vedi dal mouse però eh vabbè ma il mouse lo metto da un'altra pà me lo infilo nel culo baila baila morena e adesso non so dove cazzo stiamo andando ma quindi dobbiamo trovare tesori senza oddio quelle gambe senza sapere esattamente che cazzo dove sono no? vabbè che problema c'è? eh ma è così? cioè è quello che devo capire boh credo di sì ok ottimo a sapersi sono le 8.45 di sera ragazzi e non abbiamo fatto altro che farci buttare cannonate nel culo c'è chi piace c'è chi paga per farlo c'è pensa che c'era Cold oggi che mi che mi proponeva un business di Cold Fantasma un un mio sub che mi proponeva un business di di dog sitter prostitute dog sitter prostitute mi si è rotta tutta la chat io non riesco proprio a capire oh pescio preso quindi devo mettere ho dieci no ho messo un pesce nel coso dove l'hai messo nel portapesci eccolo qua quindi siamo ricchi mi spieghi no oh madonna ok ok oh finalmente mi funziona tutto vedi più o meno dai no no le prostitute erano per umani semplicemente ti portavano a spasso il cane prima ma è uno un po' suonato fammelo non me lo cos'è ma a te gira il piripippolo ma guarda te ma anch'io voglio fammelo uè pesce porca troia che 360 oh mamma mia allora grazie compa e grazie guic sboccate dalla prima persona non vi ho letto se me l'avete detto attenzione ma oh allora allora perché non riesco a lanciarlo non sbocchiamo ok allora ce la posso fare vabbè vai vabbè si oh non spararmi che poi dobbiamo ricominciare tutto da capo dai troviamo i tesori una sardina uè ok non eccessivamente mi fa piacere oh ho trovato un barile con delle cose via qua e io ho trovato una cesta allora arca miseria ah fortuna che oggi ho fatto tre serie di pesce fragile cos'è 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 no capì però non so sono sano ho raccolto la chat per sbaglio no della cura guarda qua eh l'ho anch'io trovato la cura mi sono curata come hai fatto l'hai bevuta si devi togliere il tappo ok non troppo alta ok 61 di vita ok e resto no avevo trovato anche un soldino la cesta ecco qua questa orata allora fammi vedere ah qua c'è un'altra io cammino sull'acqua sono diventata Gesù finalmente il mio momento è arrivato complimenti uh gemme no niente mi continua ad andare nella mi continua ad andare nella chat proprio che strana sta cosa non dovrebbe vorrei togliergli semplicemente tutti gli input di coso è solo a te da sti problemi non capisco come mai eh perché io sono uno stronzo ma no allora trovato qui si va a nuoto con questa bellissima acqua paradisiaca talmente chiara che non c'è cosa c'è dove sono cacata eh ho sentito eh niente non lo so ah non stavo nuotando ok mi sono presa malissimo cazzo di rumori alti le mie orecchie è matta ho trovato una nave ho trovato una nave ok la saltiamo abbiamo una nave no aspetta ma è gratis non è di qualcuno no no ho trovato una nave aspetta aspetta alza il braccio ok siamo ciao ok sei tu mi sa che ci sia solo noi qua beh qui si spacca una chiave per la mia figa eccola qua però funzioni così l'ha infilata mi sa abbiamo trovato una chiave del tesoro quindi però ci serve il tesoro e adesso sarà su quest'isola suppongo eh lo spero credo no ok io ho trovato anch'io una chiave del tesoro e delle cure quella è la chiave per il tuo culo ecco qua ecco uh altre chiave no Gesù altre cure chiavi cure chiave eh pigliati anche questo ah madonna che difficoltà voilà sono troppo alta mi sa allora eh là c'è altra roba così puoi chiamarti con la chiave nel culo perfetto bravi tutti chissà che mi mangio stasera niente perché madonna mia come devo nuotare così bu devi nuotare a stile fai prima eh ah no non a stile a rana no a rana non va un cazzo e che cos'è una medusa no c'è lo squalo ah vabbè ti salvo io arrivo niente arrivo eh arrivo arrivo ti salvo arrivo dove ma beh è morto a caso aspetta che mi vedo un altro vieni via dall'acqua per favore ma cazzo beh è morto è morto aiuto come si esce cazzo madonna sti cosi ecco qua ecco qua ecco qua meno male che sono piena di sta merda sono i suoi ricluvici senza via non avevo dubbi non avevo dubbi porcelli porcelli non si riesco a togliere gli input in generale proprio anche qui vabbè fa una mouse si breve oggi ok basta bah mamma mia che fatica sti squali ma poi sono pure stupidi ma sono squali che stanno nuotando per i fatti loro non ho capito perché gli devi dare pure dello stupido non ho capito io sei proprio una persona cattiva ah ah un'altra cura io sono piena di cura oramai cioè è per fortuna ah come sto bene oh madonna dobbiamo trovare il tesoro beh io ho trovato un po' di gemmazze ah si io ho 353 soldi e una gemma sola però è bella mi ha preso tutto io ho 4 gemme 3 chiavi un numero indefinito di pesci e un casino di roba da bere e l'onanave ci ubriachiamo qua allora devo arrivare lì senza farmi uccidere uno squalo quindi farò la soluzione più stupida possibile eh non funziona proprio bene questa palla ragazzi oh scusa ma non dovrebbe partire la nave forse devo aprire la bottiglia prima ah funziona il cazzolino quest la vedete io ho capito fra grazie sada per i 39 mesi tutto bene grazie sto cercando di nuotare verso nuove avventure non mi è chiaro come funziona questa che cosa non ti trovi grazie mitrandir 51 come i cazzi lo mette nell'occhio sinistro ah perché voi vedete dall'occhio sinistro ah ok posso scegliere non credo l'occhio eh perché ci vedi meglio da uno no non lo so c'è da tutte e due ah non allora io voglio la cazzo di spada da storare soldi e gemme soldi e gemme ok oh 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 no mi ha aperto non mi fa ma ecco qui mi rubi scusa eh guarda te guarda te questa dove andiamo proviamo a cambiare isola eh io ho provato allora fammi lanciare di nuovo la nave vediamo come va si se me la faccio io prendo dei supply fa abbastanza pietà sto gioco ti devo dire ma è il gioco uno dei giochi più giocati per il VR se te lo capisci un cazzo questo io ti faccio giocare solo tripla vediamo se oh io ero pure varata ma è più figa di quella di prima no in realtà è uguale cambia solo il colore eh vabbè non ci lamentiamo no no per carità smanetto ok a posto qui si deve girare si come si va in retro eh basta che giri dicevano come in Sea of Thieves cioè tu giri la barca e la barca si gira eh qui non sta mi sta la madonna gira un po' di impegno signorina e quanto fai tu non mi va non mi fu ma perché mi hai lanciato giù madonna santa con sto lag allora fammi questa lavora col VR e non sa fare guarda qui aspetta che ti abbasso la vera ma effettivamente non si gira una sega qua vediamo se forse ma è alzata completamente no si quindi cosa avresti da ridire Gabriel non ti sembra il gioco più bello che tu abbia mai visto forse devo girare le vele non credo che tu puoi girare le vele ma bellissimo guarda cosa si può fare scusa ma è un gotti questo qua ecco aspetta aspetta forse si sta giriamoci di qua no butta giù l'ancora vedi che si gira hai visto che miseria ho sbrissato ok visto oh vai tirala su abbiamo beccato l'unico sasso che c'era cioè ti giuro che nel momento in cui hai detto che si era girata era ancora di là cioè a me l'aveva scattata di brutto ti vedo un po' scattante ma che sia la connessione no ok tira su tira su ah tira su ok vai dimmi dove andare guarda la mappa e andiamo nella palla no la palla ci manda indietro ma da quando è partita ah ok e se smettessi di laghermi allora vai dritto va bene non capisco come la gente possa apprezzare Baldur's Gate quando c'è qualcosa del genere disponibile ma veramente cazzo guarda qua no no io ancora voglio giocarci a Baldur's Gate ma vuoi mettere con quello che stiamo giocando adesso stiamo vivendo un'avventura vera in prima persona cosa ti gratti il culo io mi chiedo ma come mi fa male i piedi dopo un po' ah adesso si vede che sono seduta raga si aspetta aiuto allora mi metto un po' più comoda così devo cambiare la camera devi tirar giù l'ancora però ah ah ok ok aspetta wow che hai visto che turbo che aveva la barchetta vera fighissima no no ma cazzo che succede cosa sta succedendo perché gira cosa è successo adesso e vabbè eh vabbè eh vabbè ce la facciamo a nuoto sotto dell'euro spin e la versione play 5 così esce eh eh ok ma scusami mi continui a ridare delle barchette qua che paura sì credo che c'è un mostro di scheletro ma c'ha i pantaloni di vita bassa oddio che cazzo è sto rumore era uno scheletro l'ho ucciso gli ho preso il teschio ah dove sei via qua guarda com'è avvincente Gabriel come puoi dire che non è goti guardalo come lagga per bene è andato stunnati oh c'è un altro che sta posso prendergli l'arma bene tanto guarda la mia e te lo ho detto che è sotto ragazzi che fai che cazzo faccio scemo ti puoi alzare in piedi mi inquieti io sono seduta con questa cosa in mano eh si vede ma metti l'impostazione che ti segna in piedi no? allora gli altri vedono tutta girata aspetta che sto dritta ok è un'altra chiave per il tuo culo ecco qui grazie termos per il ride la prossima volta tutti a giocare a questo eh allora apro la finestra se riesco a trovarla pianino pianino è già aperta che storia ok tra l'altro mi sarei dovuto mettere anche questo effettivamente ok se mi metto seduta sono un pirata vero adesso oddio caduto ah perché mi perde il tracking se ci metto niente ok oh madonna quanto sono piccola tanto piccola sì così mi piace così mi piace così sembro scemo però va bene me l'ha fatta una clippina aspetta ole e mi siedo quindi seated mode ok dai a posto sono tutta pronta e vedo che ti sei ricapitolata andiamo sono accovacciata e niente mi può fermare solo il vomito ma va là ok qua c'erano ancora i barigli ma sì e questi mi sa che ognuno vede i suoi io li ho rotti no infatti stai rompendo nulla da me ehi droppato roba ma che cazzo e vabbè il problema è che non capisco se quando ci tu ci passi sopra li prendi sì dopo qualche minuto sì oh madonna ma sta isola mi sembra identica quella di prima però scusa vabbè vabbè vado di qua vediamo un po' compenetrato tutto quanto però effettivamente adesso abbiamo i soldi e con i soldi ci possiamo comprare che cosa ci compriamo i vestiti ho 2400 soldi io io non so quanto caccia e te lo dice la cesta 2265 suca sono più no come 3000 3265 non ho dai andiamo a vendere io 3256 sì andiamo a vendere vediamo un po' che succede arriva da la nave ti lascio qui no ho aperto lì di nuovo aspetta un attimo oh madonna che palle qua ogni quando il problema è che quando vado a raccogliere qui si cammina mi prende esatto preso ok domani mattina non ci vado in palestra ho fatto tutto oggi guarda qua ecco no ok non è pratico giocarci da seduti come stai ti ho detto eh lo so ma puoi stacchia ma basta ma se sei stata seduta tutto il giorno no i piedi piatti ma che vuol dire allora dove sei sto qua a raccogliere la droga vabbè ma cosa facciamo andiamo a recuperare andiamo andiamo entriamo nel pallino ok allora aspetta che arrivo come stasera la trovo bagnato sono ingolosito che trovi bagnato mi hanno detto stasera la trovo bagnato io non so perché sudore eh non lo so aspetta ma tu sei andato sull'isola si cosa c'è eh c'erano delle ceste che ho preso ok allora mi butto stasera mi butto guarda vedi dove sono no non puoi vederlo non ci sono i danni da caduta no non ti vedo però sono dalla parte opposta è perché sono dalla parte opposta aspetta che faccio il giro come la brava scema che sono lì c'è qualcosa che brilla cos'è sono io della mia patong ok quante chiavi c'hai tante inutili perché giustamente lo faccio sapere a Carmine non viene su qua al telo un'altra chiave qua c'è una chest voilà un'altra chiave minchia solo chiavi che cazzo me ne facci tutte ste chiavi se c'è è il contrario il Sea of Thieves lì si tornano solo chest oddio devo arrivare lì ok però si muove la nave non riesco mica a capire vedo se riesco a beccarti se ti trovo aspetta sto arrivando comunque non mi trovo molto bene a nuotare qua grazie Kog ok eccoci che jingle anni 80 che cosa non ti vedo mica sono qua sono qua ah eccoti fermo ma perbacco aspetta se giri guarda qui che lavoro là eh lag madonna mi sta lagando tantissimo aspetta ti sei acciccata oddio mio oddio mio no ma cazzo ma cazzo ero attaccata madonna dove è finita ah eh boh posto uh è per tornare sulla nave ecco cos'è sta roba che cos'è che è per tornare sulla nave è quando ti compare la bottiglia davanti ah ho capito ho capito ho capito ah sto cantando stasera mi butto ok vai mi tiri giù il cazzo per favore no non così no non quello non quello è la tenda ah la vela la tenda quella della doccia capiscimi un attimo non vedo il vento arrivano degli stronzi scappiamo chi dove oh è lì vai 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 madonna questi proprio dritti nel culo eh sparagli sparagli vai dritto vai dritto se ne sono appesi merda vaffanculo non voglio prenderla che cazzo sto toccando questo qui citta questo qui citta guardalo dove va dove va dove va dove va vai dritto vai dritto c'è no pizzato come vado vado a prenderlo dove va merda oh no a sto stronzo si è buttato giù attento aia non me lui ok è sceso merda ok a posto vai dritto proprio a destra mi è tornato stronzo non so vi è qua ti cago in mano pezzo di coglione no il coglione intero quello eh ecco beviamo mi è parso c'è roba lì lo vedi lo vedi c'era del mistero lì in acqua vabbè non importa eh sì però andiamo via andiamo via andiamo via è tornato ti spacco la faccia vieni qua scemo scemo hai rotto in culo hai rotto le palle ma vai a cagare ecco qua dove sono ah dov'è ah tutto oooohla oooohla come si fa le cose qua qua allora qua bisogna metterci i cosi ecco qui e me ne ha dato uno però cioè mi manca quello rosso no non le chiavi quello rosso quello blu ne hai uno rosso anche per me soldi no ne avevo solo tre a quanto pare no si cento poi devo le chiavi dove si vende il pesce me lo posso infilare in culo dove e qua c'è sell treasure sell treasure e come si fa non abbiamo più un treasure noi fra ah ma il treasure è l'altro non è nostro scusa forse è questo no ecco qua devi poggiare puoi premere ah ok boh no aspetta dove rivedo i miei soldi però adesso scusa ma non mi fa poggiare una merda allora ho 2400 gold però ho zero di quelli blu e come si prendono quelli blu con le gemme vendute ma porca troia io non c'è me ne manca una rossa io ho 100 blu e 1671 gialli e i gialli a che servono? io sono a sega 17 minchia compro un cazzo qua phantom frenchman e ipatch questa mi posso via vai vai non ha funzionato granché ah devo tenere premuto adesso posso mettermela fammi vedere non c'ho niente non c'ho ho speso male i soldi allora questa guarda sembro sembro terminator bello tu che cazzo sei? sei veramente no sei cano di mortal combat ti ha sparato lo stronzo maledetto shakespeare aspetta che c'ho il cavo piantato ma come corre hai infame infame guarda sono troppi soldi comunque mamma mia anche questi fichi dammi una mano a uccidere sto stronzo scusa io ho perso la chat tra l'altro è da due ore ah è di qua la chat nice ma non c'è la vita qui ma è tipo un mmo è tipo ma è sea of thieves praticamente l'immortale eh ma qua non ci si può far ma allora vai in culo ma che stiamo qua a fare allora qui sono partiti ah che ansia la vita da pirati veramente ma a cosa servono i soldi io adesso c'ho duemila soldi che serviranno ah andiamo a bere eh ho capito dove c'è un bar ah aspetta 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 school shop ok gold skull cinquemila allora bronze skull 2005 ma non me lo posso permettere io ho duemila e qua oh bello cursed treasure lo compro left size no non ho capito ecco sta mille e cinque io ho duemila non va grazie Andrew devi tenere premuto devi tenere premuto devi tenere premuto si ah eccolo lì grazie e adesso bello lo voglio anch'io e poi che cazzo ci si fa me lo infilo in culo guarda non sei a cosa serve è bellissimo guarda com'è punk school shop e lo posso rivendere ma te lo riprenderà ma te lo riprenderà a meno di quello che l'hai pagato è probabile non so 50 mila sta capa pelata d'oro immagini immaginate Sea of Thieves marotto che neanche Sea of Thieves è così ben fatto fa un po' tristezza questo si in effetti si è la versione però in realtà noi a Sea of Thieves inviarci potremmo anche giocare eh E' solo che ci vuole tanto coraggio Mettitelo nella cesta Eh ma io lo volevo tenere fuori Scusa l'ho comprato per tenerlo nella cesta E' come comprare la Ferrari E tenerla in garage Eh ma infatti non capisco che cacchio servano Andrà infilato nel culo secondo me Guarda quante navi ci sono lì Oh guarda qua Right side Oh vedi 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 C'è il cecchino se vuoi Lo snipper Sì però tanto non faccio cacare Guarda qua che lavoro Ma è pieno di navi qua Oh è fighissimo Quasi me lo tengo il cecchino vai Posso prendere altre munizie Andiamo con qualcuno Ma questa è la nostra nave non mi ricordo Questo che cazzo fa? Ah ok per le munizie ti bisogna pagare Adesso mi spara Ludigert per 58 mesi dove sei? È proprio un gioco tipico per bambini Infatti hai detto hi man Esatto Limoniamo con il mio riflesso Ma non dire Io non ho esatto Non ho esatto No ho esatto No ho esatto Allora Ciao Come sei? Ma? Che reazione esagerata Non serviva Che cazzo Have a good day Matto quello lì eh C'è questo qua a cui puoi battere il 5 se vuoi Dove? È lì Ah no non è più bloccato Io ho battuto il 5 e niente Dai ripartiamo Andiamo di nuovo all'avventura Ma è la nostra nave Quello si può andare Andiamo con loro Che mi sembrano in gambero Ecco Andiamo con questi? Sì sì Secondo me sanno il fatto loro E la nostra nave la molliamo lì vabbò Ma che te frega Io sto partendo Ellie Sbrigati È esplosa la nostra nave Che disastro Vieni Ti prendo Ti prendo Ti prendo Ma perché urla questo qua? Mi haciato il teschio Non è qui Ecco qua Lo vedo un po' agitato ragazzino eh Un pochettino Guido io Col fatto che sono tutti uguali Diventa caotico comunque Eh quello è il problema Non ci si può personalizzare Lo vedo incazzato Tom Stai attenta Se i mari fosse De toccio Dei monti De poenta Cosa fa? Cosa fa? Cosa tocca? Grazie Eilander Per i quattro mesi C'è un po' di confusione generale Qua comunque Dove è andato? Come è fatto a finire lì? Hai visto? Cosa fai? Cos'è? Perché sei così statica? Perché sei seduta sulla sedia Maledetta che non sei altro Guardate La poliziotta Ma Scusa Ma ci hanno abbandonato? Ma hanno chiamato un'altra nave Ma noi volevamo collaborare Siamo diventati dei ladri Ma noi siamo dei ladri Ho capito Però non volevo Tirati dei parabeni E ora è il momento Di fare quella cosa Che mi riesce meglio di tutte Aspetta C'è una cest Cos'è che è? Ti riesce bene? Laggare È vero C'è la cest Ho capito Limonare Pareva strano Aspetta 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 Voglio vedere se riesco a fare la roba Che facendo i ragazzini Ok Guarda qua Bellissimo Fammi andare davanti Madonna Però non abbiamo più le chiavi però Perché le abbiamo vendute C'è un Gesù Però Scheletrico Senza testa Aspetta Magari gli metto il mio? Sì vai No Mi è stato tristissimo Qua c'è scritto Della roba Che c'è scritto? Che cazzo ne sono Suo leggere? Ah Non hai proprio più chiavi Vero? No Anch'io Proprio adesso Poi Che ci sono due ceste Ma magari Sono su stisola No? Qua c'è scritto Scritto Who let the dogs out Ed è morto Non credo Sì 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 O nutro Non ce la possiamo Fottere Certo no? No Bisogna aprirla Con la chiave Ma vedrai che la troviamo La chiave Dai Dici che è qua Perché vedo tutto un po' brullo La paura Fa 90 Hai visto Sei tu quello Davanti ai Ho trovato un teschio Magari quello bono Che ci serve? Guarda che è dello stesso colore Di quel signore Mi sembra No? Allora via Questo è Ah no Questo lo vuole D'argento Bisogna comprare Questo Questo non ti sembra Un po' argentato? Dove è andata? Deve essere proprio Tutto argentato Cioè ecco cosa servivano Quei teschi di merda Quindi il tuo teschio là Servirà Per uno di questi Cosi qua In una diste isole Da qualche parte Che dovrebbe essere indicata Ecco È segnata su una mappa Un teschio argentato Ok Io vedo il teschio d'oro Tra l'altro C'è un teschio d'oro Qui nella mappa C'è un teschio d'oro E uno rosso Anche Che è quello di C'è anche quello di cacca Ma quello tuo Non c'è qua Ah sì Chi è? Bastardo Vieni qua Merda E siamo senza chiavi Mi sa che ci conviene Cambiare isola Eh sì Vedo anche un'altra nave Per comprare l'altro È averlo saputo Eh infatti ho capito Che cazzo servissero Mettogli al posto suo Ti è uguale Non è, non è Ho già provato Non è Hai visto? No tienilo Che poi quello Lo puoi vedere Hai visto? Lo sai fare tu? Eh Sì Lo sai fare Però è mio E via Che giocoliere avete visto Modestamente Se non giocolo io Come corri sulle punte? Eh Cosa sto toccando? Ah il green screen Non funziona Staccarlo Si può staccare solo di qua però No volevo tornare sulla nave Senza far fatica Come cazzo ci si aggancia? E con questo E che non va Eh mi tocca tirarmi su Forse perché al contrario No Vabbè entriamo Dove? Non prenderti Cosa? Ok Ah Ok Madonna Sti squadra Ha rotto i coglioni Avete visto che bravo Che sono a fare giocoliere Ragazzi Ma dove andiamo? Eh sto cercando Però il deschio d'oro È in mezzo all'acqua Eh Andiamo di lì Ma tanto non abbiamo Il deschio da mettere Costava 50.000 Eh infatti costava un botto Eh infatti costava un botto Andiamo a fare del pvp Chat dovete dirmi voi Cosa stai facendo? E poi tra l'altro sembra che sto cagando Per come sto messa adesso Aspetta che io Vabbè che c'è di male nel cagare Scusa? Anche vero? Questo Come tolgo? Così? Eh vabbè ma mi devo piegare sempre Non riesco No Ma se ti allontani troppo appunto Basta che clicchi sulla nave Che ti compare davanti Vabbè ho fatto E come si tolgo Eh L'hai fatto anche tu eh Bello Adesso rischio la vita di nuovo Ma posso tornare sulla nave senza problemi? Eh ti saluto lo stesso Sono educato io Scusami un attimo Guarda te Sto effettivamente schiumando anch'io stasera Mamma mia Però ma come si tira via sta cazzata? Scusa Mi compare sempre troppo tardi da La bottiglia Sto muovendo Sì Ah ecco qua Fatto risolto Sto morendo No non morire No lo squalo Sei morta? Quasi Ti salvo Non ti preoccupare Aspetta Sta cazzo di E niente Sei morta? No Sì Vabbè arrivo Sta cazzo di Bottiglia Che compare sempre In un momento sbagliato Ma c'è un pesce per terra? C'è un pesce per terra? Nella morte? Ma c'è un pesce per terra Boh C'è pieno di bambini Che litigano Ti devo ridare il codice Immagino Aspetta Non sei nella 9 UT5 Non credo più È che devo tornare lì per dirtelo Ok no 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 Vengo io Si possono mettere le cose in posti più comodi Immagino il codice? Eh non te lo posso dire Devo tornare lì prima Ah cavoli Vabbè ma è comodissimo Mi sono tolto le cose dalla cintura Eh vabbè Game changer Cosa? È tutto Mi sono messo le armi sulle spalle La chest E la mappa Solo i polsi Ah Aspetta un po' È vero Minchia è molto più comodo Che cazzo Sì Dove cazzo sono le armi hai detto? Nelle spalle Non me le vedo Madonna questa nave è grossissima Eh io sto per prenderlo nel culo eh Te lo dico Come cazzo vedi la roba sulle spalle? Non la vedi? Ah dietro le spalle Ok Sulle spalle Dove? Scusa se ti dico sulle spalle A cosa pensi? Scusa Dietro le spalle E che cambia? Cambia Anche qui ci si può vestire Mi hanno infuocato il cazzo Ma come? Aia No sono morto Ho perso il mio teschio bello No davvero Eh sì Porca troia Che è questo? Sono tornato da Dallo stronzo di prima Ok Allora ti dico il numero In che maniera? Io te lo dico Ma è strano Defecare l'unico piacere gratuito Che ci è rimasto nella vita Allora 9 U T di tette 15 Non so compro Cazzo 40 euro Cioppo 9 U T di tette 15 15 Sì Ok No Allora Adesso mi siedo anch'io perchè mi ha impigrito Eh ma sì ma perché dopo un po' vi fa male i piedi a stare ferma nello stesso punto Ah no io sono proprio vecchio Bello Sembra una rana Ah ecco Come sembro ragazzi? Sembra un deficiente? C'è Sir Pinpin Capitan Jigglybird Heaven Ye Brown Bear Bucket Colwell Ok Quanto gente ci può essere al massimo dentro ogni stanza? Non lo so però vedi che è giocatissimo perché è uno dei giochi più apprezzati nel mondo del VR Dai bambini Ah beh quindi Di sdegni? Secondo me bisognerebbe provare una volta a fare Sea of Tips in VR direttamente Eh è un casino quello perché devo scaricarlo da Steam Ah già è vero che tu devi scaricarlo da Steam Facciamo amicizia Ma dove cazzo sono questi bambini? Sono qua Hello C'è un pesce per terra qua Hi Evan Hello Ce n'è uno dietro al culo Hello Hello Che ha la maschera di Venezia Era un teschio eh non so Questo qui sta piangendo Tutto bene? Problemi a casa? Come sta piangendo? Eh c'aveva le mani in faccia Madonna mia questo quanta roba che c'ha E vedi che lui Ah guarda come va via Mamma mia Una rana Che bello Ah ma la maschera ti segue non te la metti addosso Sì te la metti addosso Eh ma perché quella lì è magica allora? Eh credo perché non puoi metterla se c'hai sopra lei patch sul naso Ah dici Ma buon dai ripartiamo Come faremo a guidare adesso che siamo seduti Ciao Scusa Si è bloccato? No stavo parlando con il ragazzino che però è scappato via non so Io vorrei fare amicizia Vabbè che fare amicizia con i bambini non credo sia legale Quindi vabbè Madonna c'è questo qui che tira delle lagate micidiali Ma un po' tutti mi pare di capire Eh ma vedi che allora non è un problema di internet Fa comunque cacca il gioco No no ma hai detto che era colpa tua Comunque il gioco non fa cagare Semplicemente c'è qualche piccolo problemino È un goti Vorrei vedere Guarda qua che lavoro Ah certo Dai Non è il gioco più bello che hai giocato quest'anno? No Quello è Chirito Pet Ma ne hai detto che è una chiavica Esatto Proprio come questo Ma vollo L'hai giocato poi alla fine o no? Non ancora Eh no perché sono usciti in realtà un miliardo di giochi E io non ho Pensa che mi hanno dato un altro gioco adesso Due ore prima della live Outcast si chiama Ah Eh Outcast 2 mi è andato Ero tutto contento E però io non ci posso giocare in live fino al 14 Che c'è l'embargo Ma allora me lo infilo nel culo Scusa Cioè che cazzo Non ti vieta di farlo comunque Di infilarmi il gioco nel culo Eh no è vero è vero È quello il problema E quindi è quello Stamattina ho giocato Winter Survival Che in realtà l'embargo mi era scheduto il 4 Ma non lo sapevo Eh poi Cosa cazzo è che era uscito Cioè ho Ho una quantità di giochi Oh guarda il pescio Oh no Oh Oh Depende tutto dal tuo concetto di amicizia Ma a me i bambini piacciono Esattamente come piacciono gli anziani È che viene mal visto Non dire più questa frase Perché Vedi che viene mal visto Come piacciono gli anziani Eh E quindi E suona male Ma suona male perché sei maliziosa Ti pare che mi scopo una vecchia Madonna se tiro ancora su col naso Tira su l'ancora col naso Allora non tenta fammi pescare Che stavo facendo un bel lavoro L'aggiornamento di Oslo Flipper Lo facciamo durante la 12 ore Tra l'altro ci sarà anche Anche Green Durante la 12 ore Il problema è che si deve mettere d'accordo Con Carlotta Perché dobbiamo giocare In tre A Hunt Green mi ha proposto le sei Carlotta le nove e mezza Quindi adesso vi sentite Tra di voi Ci meniamo Bello quel pesce Dove l'hai messo? Nella cesta Vedi che c'è il portapesci Sì sì No non vedevo Ti era sparito proprio Adesso piglio uno squalo Se non dice che hai amicati Nessuno pensa che fai sesso con gli animali Hai capito? È un problema Questa cosa Quale ma? Scusa Ma quanti ne stai pescando? Ma sei la campionessa Effettivamente però Non abbiamo mai usato la pala Io sì Non serviva Sì? Era una merda Però vabbè Dai E il mondo è strano Sì a me piacciono i bambini Piaciono anche gli anziani Mi piace parlare con gli anziani La sardina Ho parlato un sacco Con la mia proprietaria di casa La ghiata non mi fa pigliare la sardina L'hai persa O forse te l'ha messa nella cesta L'ha messa nella cesta Che bravo Il problema della mia padrona di casa E di casa Dell'ufficio È che Poi si attacca E diventa una rompipalle Però in realtà Non mi dispiace parlare Non me la porterei a letto Ma Che questo vuol dire? Eh o magari uno vuole Per motivi di denaro Lei lei C'ha il soldo Possiede l'intero edificio Cosa stai facendo? Sto pescando attraverso La barca È un nuovo È un modo come un altro Di pescare Dovremmo Dovremmo fare Del live war Dove facciamo Dei discorsi seri Mentre facciamo Delle cose Che non lo sono Per niente Oh cazzo C'è una nave Lì in fondo C'è una cesta Qual è il gioco di cucina? Qual è il gioco di cucina? Eh quello In cui praticamente Sei Sei tipo In una cucina Di quelle da ristorante E hai delle Ah ho capito Chicken simulator Sì però C'è su VR chat Senza che tu debba Prendere chicken Ma ti pare Che io non lo possiedo? Ma guarda Mi sta venendo voglia di pesce Davvero Mi sta venendo voglia di pesce davvero C'è Posso stare tutto il giorno così? Venga qua Capellone Ma l'ho segato E' morto? E' morto? E' morto? Ah questo Ok Oh scherzi Aia Sei stata tu? Ma è menato? Ce n'è uno là dietro forse Dov'è? Sta sparando Ma è tutto sciupato Ma lo senti? Uh No Non lo so mica Lo sento Lo sento E poi aspetta I bambini sono belli Sono gli adolescenti Che fanno cagare Cioè noi Perché noi siamo adolescenti Ostia Non sono adolescente Da anni Non si dicono queste cose E adesso Verò neanche raccontare le cazzate Questa mi sembra aperta Questa Cesta Però non Non so Non so come si fa No non è aperta Mi sa che serve anche lì la chiave Qua ci fa Però vedi che il lucchetto non c'è Non c'è il lucchetto Oh no Qualcun altro che rutta Maleducati No uomini rudi neanche Sono un anziano Per quello mi piacciono i bambini Perché Potrebbe essere il loro nonno E gli altri anziani Perché sono mei coetanei Vi aiuto Ecco qua Sono adolescente dentro No mai stato Mi facevano cagare allora Così come mi fanno cagare adesso Gli adolescenti Eri già vecchio quando eri adolescente Sì Oh una chiave Uh chiave Allora si va a schiavare Tra l'altro La signorina qui presente Mi fa Ti va di fare una live assieme Devo organizzare la mia settimana Dico sì va bene Volentieri Giochiamo a un gioco di golf Mi ha risposto malissimo Ho pianto ieri Ho pianto Ho detto che è un gioco È un gioco di anziani Non hai detto così Sì No Allora la cesta È un gioco di anziani Il golf Cioè il golf va bene Se hai 50 anni E sei Prossimo alla pensione Maddoh Magari 50 anni Prossimo alla pensione Cazzo Firmo Che cazzo ci va in pensione A 60 anni oramai Eh ma a me va bene Cioè a me l'Inps ha detto Che andrò in pensione Quando sarà già stato terra Perché? Cioè l'Inps te l'ha detto proprio Quando lei morirà Hanno fatto i calcoli Hai fatto i calcoli Su quando morirai Pensavo Vabbè Quello spero il primo possibile Allora Così non devo pagarti Le tasse Maddoh Che bello Il problema si risolve da sé Mi fa ridere che alla fine Si parla sempre di questo È perché ci sono Due cose certe nella vita Le tasse e la morte Ecco qua Sono quasi morto Effettivamente In game E mi prendo Un bel Ah ma è più piccolo questo C'è capito La gente Quando pensa Oh no Dovrò morire Non pensa Oh no Non voglio morire Voglio vivere E pensa Ah micchia Meno male Non devo pagare le tasse Ah ma sono d'accordo Oh signore Che rutta Io ho trovato Un'altra chiave Comunque Anch'io però Non mi apriva la cesta Quella lì Anche perché Era una cesta strana Ma come cazzo Ma hai provato a colpirla Non si apre neanche così? Sono seduto Non ci arrivavo Molto bene Quindi non lo so Non lo so dire Grazie Lori Per i quattro mesi Comunque ho fatto il counter Per la 12 ore Ed è venuto molto bello Nonostante abbia ricevuto Aspre critiche Sempre dalla signorina qui Ma no Era solo il colore Ad essere Non voglio il pesce Era solo il colore Ad essere brutto Comunque ve l'ho mandato Su Telegram Se qualcuno Se lo fosse perso Non so Posso usare questo? Reparto gelatina di Twitch Siamo noi Siamo noi Sì Come cazzo si apre? Scusa Non ho capito Eh non lo so Io sto raccogliendo chiavi Ma a manetta Proprio Che poi sono tutte uguali Sembrerebbero Grazie Kog Resti comunque un pirla Non ti preoccupare Non è che se mi fai complimenti Ma il golf spacca Green Spacca se ti do Una legnata in testa Ma che non capisci niente A quanto parla Andrà in pensione Un anno dopo Che finirà sottoterra Grandissimo Solo un altro anno di lavoro Pensa che standard Bassi Che siamo arrivati ad avere Se questa è la nostra Prima reazione Adesso Mi faccio uccidere La usqualo No è Ah no Non era abbastanza bassa Qua l'acqua Ho appena finito Il mio brodino Che buono No io adesso Ho un caldo boio No Mannaggia Ho quasi vomitato Stasera Quindi Allora Mettiamo in conto Una cosa Prozzi Sta un sacco Di roba buona Ma le salse Mazza se le sbaglia Il biscotto Che ho mangiato Era incredibile Solo che È un biscotto Per fare i muscolosi Quindi non avrei dovuto Mangiarlo Per quelli Iperproteici Che ti fanno diventare Gesù No Non credo Siano così potenti Ti fanno diventare ciccione Se non t'alleni E quello è il problema Allora Il problema è che Tipo Oddio Che succede Eccolo lì Tipo a me piacciono Un casino Le barrette Della Foodspring Anche se sembra Che abbiano la consistenza Del tungsteno Non so perché Mi piacciono tanto Picchia Sai cosa Qua le barrette sono buone Quella della Galak Con dentro i cereali Che buone Mamma mia Piggiami Sto cosa Voglio dire la prossima volta Che ti ricordo Di togliere la corrente Allora Kog è elettricista No Sai che ho montato La luce Sopra il green screen E gli ho chiesto Un paio di dritte Perché c'era Un Un connettore Chiamiamolo così Un pezzo di plastica Che non conoscevo Che era Praticamente Il mammut Solo che anziché Unirne quattro Ne infilava due In due buchi Due e due Eh E lui mi fa Devi Unire i cavi I cavi spellati Attorcigliandoli Che era una cosa Che già sapevo Però mi fa anche E però prima di staccare La corrente E grazie al cazzo C'è un problema Sono rimasta bloccata In mezzo alle rocce Non mi posso muovere Devi saltare indietro No Dove sei? Che ti cerco Mi si è buggato Qui dentro Aspettiamo Se mi muovo in avanti Oh Non mi fa Non mi fa saltare Non mi fa muovere Vedo se riesco a spostarti A spinta Picchiandomi Non meno contenta Eh non so Non mi fa Vedi Sono qua Ma mi sono rimasto Proprio incastrata Malissimo Non mi fa uscire Il problema è che È un po' di roba Da vendere Perché credi Che ci rigiocherai Madonna Eh Mi spiace Qua Ci sei vicino Oh cavoli Non troppo Eh no Non ti posso Ti passo attraverso Tieni Che mi dai? Ah mi dai le cose? Doi soldi Ma non li voglio Non ci giocherò mai più Ah ecco Allora siamo d'accordo Infatti guarda No Non ammazzarmi Fammi pescare Almeno Che almeno Ero l'unico Ma volevo fare io Guarda Fammi pescare Sono morto? No No Non ho attaccato I cavi con la corrente attiva Ragazzi Anche perché in realtà Kog mi è stato utile Ma non essenziale Cioè su tutte robe che Credo che gli piacerebbe La mia lampadina piena d'acqua Che palle A lei è entrata l'acqua in casa Non si sa Non hai scoperto da dove Tra l'altro No L'è entrata l'acqua in casa Le ha riempito Il Un soffitto E che bello Guarda che carino È un granchio pirata Ma sì Veramente Ma sto male Ma che bellino Chiamerà Gianluca Bellissimo nome Per un granchio poi Tra l'altro mi ha fatto molto ridere La persona con cui Ho interloquito oggi Con quel nome lì Ah E beh Sai Aspetta questo Tira su Dai Conosciuta una persona Che ha tagliato Con la forbice Dei cavi Che uscivano Da una scatola Di derivazione Perché erano Antiestetici E si è meravigliata Che è saltata la luce Beh No vabbè Ma la salva vita Funziona molto bene È difficile Oh merda No è caduto il pesce Beh però non sei morta Ah l'ha preso Lei appunto stavo dicendo L'entrata all'acqua Da non si sa dove E aveva l'intero soffitto Sì ho capito Però c'è Non era il soffitto Sottotetto Perché era Il Cosa del garage Sì era Sì era Sì è quello Della lavanderia Che dal garage È entrato dentro Una finestra Che non doveva Far entrare l'acqua Mentre Dalla cosa Della lavanderia Non è chiaro Perché non c'è Un buco Non c'è niente Non c'è neanche Segni di infiltrazione Per cui rimane Ancora un mistero Per ora Ma è facilissimo Pescare Ha fatto un bel giro Pindarico È arrivato All'impianto elettrico E ha riempito Una lampadina Ma la cosa più assurda È che la lampadina Era accesa E non è esplosa Perché la resistenza Che è saltata Della lampadina È stata sostituita Dall'acqua Che ha fatto Da resistenza Ovviamente Non è che era accesa Sul serio Nel senso Scaldava l'acqua All'inverosimile Sì esatto Era un piccolo bollitore Però è stata una roba Allucinante No non pesco meduse Dome Non ti permettere Domani mattina Un gioco Dove ci sono Un sacco di meduse Io ho visto L'anteprima Ho detto Questo gioco Letteralmente È il sicuro Non lo vedrò Neanche in gameplay Mi ha fatto ridere Che mi hai taggato Stamattina Ma tu non sai Che quello lì È un gioco Che io seguo Da almeno un anno Anch'io Ah ok Ecco Perché non segui Se c'è la medusona È perché Posso apprezzarli Da lontano I giochi belli Anche se hanno le meduse E sembra molto figo Il problema Lo giochiamo domani mattina Ragazzi Il problema è che Sembra sempre tutto uguale Non sembra dare Troppo spunto Cioè l'idea è bella Però si blocca un po' lì Diciamo Ma perché dici Eh perché sembra sempre La stessa roba Devi arrampicarti Su dei Cosa Su Su degli animali giganti Cioè non mi sembra Perché lui dice Mi sono ispirato A Shadow of the Colossus Che Sembra tantissimo Ed è vero Per l'amor di Dio Non funziona più Ed è fighissimo Il problema è che Dalle immagini e video Che ha fatto vedere Cioè il gioco Sembra sempre C'è uno che corre Su dei tentacoli giganti Quindi Ma perché lanci In una direzione E va nell'altra Come funziona La pesca qui Andiamo a pesca Io non mi posso Muovere di qua Nonne la vita No Sono piena di soldi Cioè Tira su dai Cosa stai facendo Mi tocca i capezzoli Ti devo spostare Però adesso Sono rimasto qui con te Non mi sposti Sei bloccato No Ma davvero Sì Ma porco il cazzo Guarda che bel pesce Però Sto facendo Ma un fracco di soldi Con questi pesci di merda Ma allora Madonna mia Non ci si può debuggare Vabbè Tanto è ora di chiudere Comunque Però è stato bello Cos'è stato Cos'è stato blim qua Batteria Sostituisci la batteria Di che Del visore No credo del controller No del controller Se prendi le dura C'è l'optimum Durano tipo un mese Oddio ma dove cazzo Beh queste qui Ce le ho su da quando Me l'hanno regalato Figurati Sì E vabbè Che no ci stiamo vendendo però Guarda Sono salvo E a me no Sì sì guarda Guarda Andiamo a vendere Dai Se riusciamo ad arrivarci in columi Cosa di cui Onestamente ho qualche dubbio Non ci giocheremo mai più Però Se mai ci rigiocheremo Non è partita la bottiglia Devi lanciarla più distante Mi sa Eh ho capito Io ma che palle Dai Mi sto divertendo a pescare Sai che forse forse Un gioco Viar di pesca Ok io Sono tornato all'altra nave Viar di pesca Volentierissimo Ce ne sono un po' eh Solo che io volevo Un gioco di bar E mi ha dato Mi sono nato in acqua E mi ha dato Quella del teleport La bottiglia Allora aspetta Vediamo se la dà anche a me Senza che mi accoppi Qualcosa o qualcuno Quanto ci mette a Me l'ha data praticamente subito Il golf della vecchia e la pesca no Ma infatti non capisce un cazzo È la vecchia la pesca E allora Sta cazzo di bottiglia Mamma mia Fai a largo Eh ma perché ho paura degli squali Perdo tutto Se no Ma ti vengo a prendere Dai No Sto arrivando Ce la fai? Faccio un Con molta fatica Ma ce la faccio Io sono quasi alla palla Bootstrap Island Cos'è Bootstrap Island? Eh Survivor No Survivor in war Pirata però Dove sei? È sulla barca Ma sei Stai andando distante Eh sì Mi hai detto tu vai Ti vengo a prendere E sparami nel culo Che ti devo dire Aspetta Oh no Semenamo? Semenamo Ma non ti sta uscendo La bottiglietta No mi sto a menare Io mi sto a menare Con loro Bababia lag Bababia Non c'è che laggate Bababia Ecco Aia Che cazzo Mi è arrivato un colpo Da chi? Eh mi sa che ce n'è uno Incastrato dentro il muro Se sei dove eravamo prima Vaffanculo Non morire eh No aspetta Aspetta Che devo bere Mi devo Devo bere Aspetta un attimo Ah ti vedo Ok Se finissi di laggare Mi farebbe un piacere Mi vedi? Sì aspetta un attimo Che bevo Aspetta Cazzo Si toglie sto tappo Di merda Ok Ok sto meglio Un attimo che Mi fa ridere che adesso Sto dando completamente Le spalle Alla Alla cam Però sono seduto Su una sedia Sono un signore Seduto su una sedia Che dà le spalle La cam Scusate ragazzi Non me ne sono Disse tutto dopo Ti vedo adesso Ci sono anche Abbastanza Vediamo se mi compare La bottiglia di merda Ciao Ciao Moge Stanno giusto Parlando di Sea of Thieves Che si può fare In VR No Cazzo La bottiglia Devi afferrare Stai attenta Che c'è lo squalo Ma mi laggo troppo Laggo troppo E quello è il problema L'ho ucciso Cazzo Arrivo Arrivo Che mi fa laggare Talmente tanto Che non riesco No fra Ok 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 Ci so Ci so Ci so Ecco qua Aia Sali su Sali su Non riesco Sei scesa Salita No Sei morta Cioè mi ha fatto salire Sono crepata No dai Ho perso tutto C'avevo un botto di soldi E' andata a fanculo Gioco di merda Tanto non ti di permettere È un goti Ma tutto sto lag Mi Vediamo se vedo la tua roba No Vaffanculo Vaffanculo No non posso Lo disistallo Appena chiudiamo la live Tipo istantaneamente Aspetta Vedo una cesta lì in alto Ma cos'è Cento soldi No mi sa che non è roba tua quella No no Mi sono pulata col Crick Ma che cazzo Col crick Brutti ceffi Mamma mia Sto gioco del brazzo Cacassero lungo I tubi Vado a cenare con la rabbia Nel senso Vado con la rabbia Beh io però c'ho 9.683 soldi E l'hai presi da me allora? Boh Quanti ne avevi? Eh magari si Perché sono salita sulla nave E quindi l'hai presi da me Secondo me Meglio almeno Ma dai Ripeto io chiudo Tutto il culo sta merda Ma volgare No Aspetta che ho lanciato la nave Ma io chiudo tutto qua Continuo a cadere E vengo al pc Per salutarti bene Anche il visore Ha iniziato a scaricarsi Ha finito la batteria Del Del cazzo Ah perché te stai Giocando con l'airlink? Certo Eh ma allora Signora mia Ah Bello eh Sedersi Mi sono inculata col cric Ed ecco la nuova espressione di Ele Ne ho sempre una nuova Poi me la dimentico il giorno dopo Eccomi qua E questa è la maxistoria Di come ci siamo inculati malamente Bello però Sempre bello Incularsi assieme Oddio avvocato Oh no È arrivato un altro nudo Che si chiama Capitan Papera Aspetta ma io come cacchio No mi chiamo col mio nome di Steam In effetti Però guarda Sì ti chiami Green Starry Ah no Non posso sparare Perché non l'ho caricata Però io voglio solo fare così Madonna Come funzionano male i comandi Dice io basta che chiudo le mani E mi prendo No vabbè L'ho fatti veramente un cretino Vi siete divertiti voi che siete rimasti? Purtroppo le line VR Non tengono Non tengono Però vabbè Che cosa fai? Perché tipo io Se faccio le attività Tipo appunto Ok il prezzo è giusto La gente un sacco ci si butta Perché cominciamo tutti a litigare Bello Quindi nel senso Ci sta assolutamente Da quel punto di vista Ok allora Io devo guardare in cam Quindi guardo di qua Ok Di qua Aspetta Ok così sono in cam Perfetto Non riuscivo Vorrei Vorrei fare un ride Però devo farlo così Dovete dirmi voi Chi è online E perché io lo faccio da visore E quindi Lì diventa tosta Da Da capire Questa cosa C'è Carlotta in live? Ehm Fammi vedere Nope Dice Dome Che non c'è in live Dome Chi è che c'è in live? C'è qualche Poverino Che vuole accettare Una persona Che si è quasi vomitata addosso E ha perso tutti i soldi Oggi Come nella realtà Alla fine Ma io rimando Dalla Aoi Queen Sì non la conosci Dalla Maria Dalla Maria Dalla Maria Sì Ma è tutto attaccato Sì Con la Y Sì 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 Lo so È il suo Il suo personaggio Vediamo se l'ho scritto giusto Sì Scrivetele Buco del culo Esatto Sì 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 sì